a chattare, a usare i computer nella cosiddetta quarta età, a 85 anni come minimo. Bene, a Pietrasanta l'assessorato al sociale si è mosso per insegnare agli ultraottantenni a usare il computer. Vediamo. Non è mai troppo tardi per imparare ad usare il pc, a navegare su internet o a scaricare musica. Per questo a Pietrasanta si sta chiudendo con grande successo il corso di informatica per nonni. Si va dai 60 anni fino addirittura agli 85 anni di età, tutti in classe per diventare internauti e nonni social. Nel corso delle lezioni al centro di formazione professionale dell'Osterietta si segna a utilizzare i motori di ricerca e le applicazioni più pratiche e utili anche per chi è già in là con l'età. Abbiamo lavorato più che altro sulla connessione web, perché è la cosa principale, quindi della posta elettronica, alla navigazione, all'utilizzo, come fare una visita medica o il CUP, tutte queste cose qua e leggere un giornale o quant'altro per spostarci poi sulla parte smartphone, che è la più richiesta in questo momento in assoluto. Il fenomeno universale degli smartphone e la digitalizzazione dei servizi pubblici hanno portato anche meno giovani a mettersi al passo coi tempi e c'è anche chi ha ricevuto un tablet o un computer in regalo dai nipoti e non vuole perdere l'occasione per imparare. Per questo il comune di Pietrasanta, con l'assessore alle pari opportunità, Laura Santini, ha dato il via al corso per nonni e visto il boom di adesioni si pensa già al prossimo anno. L'idea mi è nata proprio perché vedi una persona al Bancomat che aveva dei problemi, perciò ho detto Bancomat, computer, facciamo qualcosa per queste persone, l'iPod, l'iPad, lo smartphone. Infatti abbiamo avuto tante persone che sono venute qui perché magari il nipote o il figlio gli hanno regalato uno smartphone oppure un iPad e non sanno come gestirlo. Certamente è una bella iniziativa. Mercoledì prossimo